Buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV sul canale 17 Occhio ai giornali che come sempre tutte le mattine con il touchscreen vi dà la possibilità di vedere e di sfogliare i giornali velocemente con la lettura dei titoli e delle notizie più importanti. Cominciamo però a sfogliare invece il calendario, il calendario ci parla del santo del giorno, oggi dobbiamo tornare indietro nel 300, 327 per ricordare una santa che tra l'altro è la prima di dieci fratelli tra i quali ben quattro sono santi, Santa Macrina, è stata Santa Macrina Monaca, dicevo i fratelli, quindi sono quattro santi di dieci persone, insomma ha sfornato quattro santi. Lei, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e Pietro, sacerdote e Monaco, nacque in Ponto nel 327 appunto. Il sole è sorto alle 5.43 e tramonterà alle 20.46. Tempo bello per oggi con temperature senza variazioni di rilievo, vedete il sole su tutta la regione Marche, così anche domani, anche se vedete i primi cumulonembi e le nuvole si affacciano sugli appennini, in particolare nord e sud della regione, ma le temperature sono stazionari o addirittura nel lievo aumento nei valori massimi, poi giovedì 21 di luglio, cielo parzialmente nuvoloso per nuvole orografiche e temperature in aumento. C'è una saccatura che potrebbe determinare condizioni di instabilità per la giornata di sabato, ma vi terremo informati, vi daremo altri aggiornamenti nelle prossime ore. E adesso cominciamo a leggere i giornali, dunque c'è la notizia della violenta rapina che c'è stata a Fano, i danni di una coppia che a un certo punto di ritorno a casa si è trovata faccia a faccia con i ladri. Questi sono scappati, ma c'è stata una connotazione. Tutto questo viene raccontato sui quotidiani questa mattina. Poi c'è un incidente mortale in Galleria in A14, dove è perso la vita una donna di Monte Labbate ed altre notizie che adesso andremo a leggere con i due quotidiani, il resto del Calino e del Corriere Adriatico. Cominciamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico, però, con la storia e con la questione dei parcheggi per quelli che vanno al mare, non solo tra Fano e Pesero, perché poi il problema cronico dei parcheggi esiste non solo lungo la Statale, ma anche in altri posti. C'è adesso la rivolta dei bagnini, che viene raccontata dal quotidiano marchigiano. Vogliamo più parcheggi? Dicono. Sottomonte si cerca una soluzione, chiesto l'incontro con il prefetto. Vogliamo incontrare il comune di Pesero e il prefetto. Questo è un problema che va affrontato e risolto insieme. Sottomonte è il caso Sbelli, non solo di quest'estate, ma di tante estati. Le associazioni dei bagnini si stanno mobilitando e lo fanno insieme ai gestori degli stabilimenti di Sottomonte. Questa è la prima pagina del Corriere Adriatico, dove tra l'altro si possono leggere anche altre notizie. Per esempio quella di De Gregori, un po' Bob Dylan, questa sera in concerto in piazza a Fano. E poi lo sport con il Fano Calcio, l'Alma Juventus Fano, dove oggi pomeriggio si presenta il nuovo allenatore Cusatis, mentre per la Vis Rapparo è fatta. E c'è la fotografia invece che riguarda l'intervista al leader di Confindustria, che sarà oggi nelle Marche, l'imperativo di Boccia, crescere è un dovere. Inferno nella galleria, muore tra le lamiere, senza scampo una donna di Montelabate. Otto ferite nel maxitamponamento sulla 14. Entriamo dunque nelle pagine interne, velocemente diamo una sfogliata alle pagine. Sottomonte, i bagnini fanno fronte, più tolleranza, dateci parcheggi, individuata l'area di Fosso Segliore, chiesto incontro con l'amministrazione comunale e il prefetto. Questa è la zona, avete visto la grande fotografia, la zona di cui si parla in particolare. Fano guida, sempre su questo argomento, Fano guida la rivolta, basta con le multe, a Gimarra aumentati i controlli, protestano i concessionari. Alla fine i clienti si lamentano con noi e il rischio è che vadano altrove. A Torrette di Fano guerra tra camper e auto, a pesare anche il grande afflusso di turisti, di bagnanti da parte dell'Umbria. La pagina di Fano del Corriere, ecco qua la cronistoria di tutto quello che è accaduto ieri a questa coppia che è stata vittima di due rapinatori, due uomini di 30 anni con l'accento dell'Est a bordo di una BMW Station Vagon, rapina sabato scorso, rapinata sabato scorso, rubata sabato scorso a Todi, rapinata a Todi, seminano violenza e paura poi a Fano. e c'è tutto, dicevo, il racconto con lo schema che sintetizza quello che è successo. Questa notte di paura e di violenza assaltano questa abitazione di Viale Piceno, poi picchiano la donna che tenta di bloccarli, prendono i monili d'oro ed un forziere con dentro cinque armi che nella fuga però sono state gettate e nella fuga viene gettata l'auto contro della polizia. Il marito accorre e rischia di essere investito, i rapinatori fanno perdere le loro tracce, sono ancora uccelli di bosco. Dunque questa è la pagina di Fano, la prima pagina di Fano, poi si parla sull'altra, della gestione per sette anni grazie agli investimenti della società Fano Fortuna che porta migliorie alla piscina, l'unica piscina che abbiamo a Fano. Dai primi interventi posti in programma si vede subito la differenza tra l'attenzione che presta al pubblico, un'associazione che è nata in città ed è costituita dai fanesi e da ciò che si è mostrato, da ciò che si è visto da altre realtà forestiere e riferimento chiaramente alla precedente gestione che arrivava dal Veneto. Oneri per oltre 60 mila euro per adeguare l'impianto e aumentare la fruibilità. Questo è l'ingresso della piscina di Nisal Valai che conosce, così dice, scrive la Disascalia, conosce finalmente una stagione di rilancio. Fano, ricordiamo, c'è grande necessità di un impianto comunque adeguato ai tempi, a tutto il resto. Fermo pesca invece sbagliato per parametri inadeguati, lo dice Corrado Piccinetti, direttore del Laboratorio di Biologia Marina di Fano, la critica produzione ittica crollata in 15 anni. I ragazzi della Gandiglio imparano fuori sede, una vasta serie di temi sarà affrontata all'esterno della scuola. Adesso l'altra pagina del Corriere Adriatico, un viaggio a ritroso nel tempo. Parliamo dei quattro cantoni, i quattro canton, presentati all'Ufficio Turismo con questo nuovo logo e questa edizione di agosto in costumi tipici. in questa fotografia il Corriere Pubblica, l'assessore Stefano Marcheggiani e poi la mente di questa nuova versione, questa nuova vita per i quattro cantoni che è Claudio Pacifici. Mare per tutti e i disabili salgono in barca. Comune e associazioni e Caicco, che è questa barca, regina Isabella insieme per aiutare i più deboli. E poi la Valle del Cesano, siamo sulla Valle del Cesano, il Corriere Adriatico in apertura mette i fondi alle residenze protette. Occorre una commissione, il comitato rilancia la proposta al sindaco di Mondolfo Barbieri per sopraintendere all'attività. E poi ancora il Festival tra Cinema e Poesia, incanta il pubblico e la critica. Successo di Anima V, il regista russo Petrov, innamorato dell'atmosfera. Sulla pagina di Senigallia del Corriere, dal centro pedonale alla Maxi ZTL, spunta anche l'idea del referendum, il comitato spera nello stabilimento post estate e su una gestione con le fasce orarie. Poi da Tre Castelli, eccola qua per chiudere il Corriere, a Tre Castelli pronto un milione per riciclare la pavimentazione. Stiamo parlando di questa pavimentazione, il lavoro a Ponterio, prima del piano di manutenzione delle strade. E poi ancora da Pesaro e provincia, muore nell'inferno della Galleria, Domenichina Bravi di 66 anni, ha perso la vita nel maxitamponamento tra un camion e un ato sulla A14. La donna, residente a Montelabate, aveva da poco passato il casello autostradale di Ancona Nord, coinvolte tre auto e due mezzi pesanti sul posto, cinque autoambulanze. E poi da Fossombrone, quante polemiche sulla REMS. REMS è la residenza psichiatrica per detenuti pericolosi a Fossombrone, nei pressi dell'ospedale a ridosso dell'eliporto. rischia di sfrattare appunto questa struttura per gli elicotteri. La residenza psichiatrica per detenuti potrebbe interferire con i voli, scusate, soprattutto quelli notturni. Sotto invece i turisti, sempre a Fossombrone, rivolgono la passeggiata archeologica. Ci sono comitive che chiedono il ripristino del museo a cielo aperto. Andiamo adesso sul resto del Calino, la pagina di Fano. Al mare ci sono tanti vigili, ma zero parcheggi. È stata rovente dopo la linea dura del prefetto che ha chiesto più vigilanza e quindi più multe. I bagnini accusano. Il comune potrebbe affittare delle aree private e i camper non possono stare altrove, si domandano. E poi sul passaggio pedonale per Gimarra un privato disposto ad investire. Ecco qual è la zona, diciamo, critica in queste due fotografie. vedete le file di auto parcheggiate all'Arzilla, lungo la strada che porta alla ciclabile e poi la statale davanti. Questa è la statale davanti ai bagni 5 e queste invece le auto parcheggiate lungo l'Arzilla. Ok, questa è la pagina di Fano del resto del Calino. Andiamo su quella di Pesaro Primo Piano, perché oggi si parla di un verdetto. Fiscof Polibis, sentenze ribaltate, in appello assolti due giudici, condannato il commercialista Eusebi, pena più grave invece per Venturati. La difesa di Petrelli e Polidori ha dimostrato che non c'era stato abuso d'ufficio. Stiamo parlando di una vicenda che accadde la mattina del 22 luglio del 2010, quando la Guardia di Finanza e i carabinieri mettono le manette al segretario della quarta sezione, Beniamino Mensali. E quindi di una cosa che è successa ormai sei anni fa e oggi però c'è questa... la notizia è che questa sentenza è stata ribaltata in appello assolti questi due ex giudici. Poi sul resto del Calino, due pagine per l'assalto del crimine, il racconto della donna che dice ho sentito un gran fuoco dentro, neanche i pugni mi hanno fermata. Parla Beatrice, la donna che ha tentato di bloccare i banditi in casa. La coppia di banditi voleva rubare un armadietto con dentro fucile e pistole regolarmente detenuti, ma per fortuna, diremmo noi, non c'è riuscita. Beatrice Mencarelli dice racconta adesso, a mente lucida, di certo non lo rifarei. Volevo solo che li prendessero, ma se volevano, potevano davvero farmi, del male. Poi c'è l'altra pagina che chiaramente troverete sull'edizione cartacea in edicola. Andiamo sulla pagina di Fossombrone, Cagli e Urbagna per il racconto di una serata, quella dedicata a Ismaele Lulli, che vedete in questa fotografia mentre fa la linguaccia, una delle tante espressioni che comunemente i giovani postano, soprattutto sui social network. Sant'Angelo Invado ieri si è fermata per ricordare il giovane ucciso un anno fa. E sotto invece oggi l'addio ad Elisabetta Perfetti, il paese si stringe ai familiari, siamo a Serravalle di Carda, al confine quasi con l'Umbria, ai piedi del Monte Nerone, e Don Roberto, che è il parroco di Serravalle di Carda, questa mattina ufficierà la messa per i funerali di Elisabetta Perfetti, la 56enne maestra della locale scuola materna, parliamo di un paesino veramente piccolissimo, penso sia l'unica scuola, ecco perché tanto dolore, perché in un paese come Serravalle di Carda chiaramente ci si conosce tutti quanti, morta nel letto per cause naturali. E poi la Flaminia da Calmazzo a Ponte Riccioli è come una strada da Terzo Mondo. a Cagli dura la protesta di Ninil Donini dell'IDV. Direi che possiamo fermarci, sì, lo facciamo con questa bella fotografia, guardate questi giovani, spesso parliamo di giovani e spesso parliamo di loro perché magari, che so, imbrattano le mura romane oppure devastano il Lido la spiaggia in piena notte, ebbene, questa invece è la meglio gioventù, quella che dovrebbe lasciarci farci sorridere, lasciarci un po' di speranza, sono i giovani, 21 studenti che hanno conseguito il massimo dei voti a scuola in questi ultimi esami di maturità. Alcuni hanno avuto pure la lode. Chiudiamo con questa bella fotografia che ci dà speranza, vi saluto, vi do appuntamento questa sera alle 20.30 cioè il telegiornale come sempre, occhio alla notizia, arrivederci. a Grazie a tutti.